Alluvione a Benevento sulla graduatoria regionale per il risarcimento dei danni qualcosa è andata storta. A protestare il titolare della Grisemi Minicozzi, l'azienda agricola di Ponte Malentino tra quelle maggiormente danneggiate dalla esondazione del calore, che si ritrova escluso dal riparto. I fondi sarebbero stati licenziati, secondo Minicozzi, basandosi sull'autocertificazione dei danni. Per quello che noi abbiamo visto la graduatoria che è uscita, quella regionale, a questo evento noi ci siamo stati fuori, stiamo stati tagliati fuori, perché le prime tre aziende dalla scheda C dichiarate sui danni, noi siamo la quarta azienda. Abbiamo ricevuto 10 milioni, oltre 10 milioni di euro di danni, non stavamo nemmeno coperti di assicurazione con calamità naturale. Oggi siamo in un'azienda che di urologiamente era distrutta al 100%, forse l'unica più distrutta in tutto il sannio, quasi abbiamo ripreso l'80% della nostra produzione a 24 mesi. Però risarcimento di danni zero. È sorta questa quarta azienda che ha dichiarato questo aspetto di questo danno di cui ci ha scavalcato a noi. La delibera regionale ha fatto la graduatoria in base ai danni presentati con la scheda C, con il raggiungimento per il proseguimento della perizia asseverata. Io spero che la politica si impegna a trovare altri fondi per mettere a copertura tutto. A parte che noi è un'azienda che lavoriamo sul territorio e con noi lavorano circa 4.000-5.000 sbarre aziende agricole che fanno prodotto per noi. Sarebbe una paralisi della cericoltura campana.